In questo mercato di riparazione alla Corte del Teramo è arrivato dal Seregno a titolo temporaneo con il consenso della Salernitana, proprietaria del cartellino, Filippo D'Andrea, classe 98, esploso calcisticamente nel Fiugi in serie D, siglando 28 reti nel bienio dal 2018 al 2020. Sicuramente io sono venuto qui per dare il mio aiuto, il mio contributo a questa squadra, secondo me la classifica non merita questa posizione, una piazza così importante dovrebbe stare più in alto, spero di poter aiutare questa squadra in qualsiasi ruolo, spero in attacco perché il mio ruolo è a punta centrale o a due, anche facendo la seconda punta, quindi dove il ministro mi vuole far giocare io mi faccio trovare pronto. Il mercato chiuderà i battenti il 31 gennaio e il Teramo è pronto per mettere a segno gli ultimi colpi. La mezzala Domenico Mungo, in scadenza a giugno, è a un passo dalla Viterbese, la trattativa dovrebbe andare in porto in settimana. Per il reparto offensivo il diavolo sta assondando il terreno ma è vicinissimo all'attaccante forte Luigi Cuppone, classe 97 ex casertana. Lo scorso campionato con il tecnico Guidi ha disputato 33 gare totalizzando 14 reti. Sono in uscita il centrocampista Mattia Lombardo alla Vibonese e l'esterno Montaperto. Per il settore giovanile, dopo la cessione di Jacopo Surricchio, classe 2006 alla Roma, c'è un altro baby, attenzionato da squadre di Serie A, Atalanta, Torino e Verona, Manuel Fava, classe 2007.